Buonasera a tutte e tutti, benvenuti nella foresta di Sherwood per questo dibattito che ha il compito di ragionare insieme su quello che è successo in Francia nell'ultimo anno. L'atteggiamento che ci diamo per condurre questa narrazione, questo dibattito, ovviamente non è l'atteggiamento dei tifosi, cioè di coloro che guardano a quello che succede da un'altra parte del mondo, in questo caso in Francia, per cui anche molto vicino, con l'atteggiamento di coloro che tifano per le rivolte senza poi tentare di produrre nei nostri territori, nei nostri contesti, avanzamenti di lotta, avanzamenti di insubordinazione, di messa in discussione dell'ordine dello stato di cose presenti. Noi abbiamo costruito come compagni e compagni di Global questa serata proprio per fornirci degli strumenti e per ragionare insieme rispetto a un contesto, quello francese, che quest'anno abbiamo attenzionato in maniera particolare ma che attenzioniamo da diverso tempo. Io vorrei usare un po' le parole di Balibar per cominciare questa nostra discussione quando dice che in Francia ormai negli ultimi dieci anni possiamo parlare di una sorta di insurrezione permanente. Evidentemente dallo Atravai, noi debuts, quindi dalle prime riforme di attacco allo Stato sociale ai diritti dei lavoratori si è messa in moto una movimentazione sociale, ricordiamo l'esempio di Gilets jaunes e la sua capacità di perdurare in una dinamica di conflitto radicale estesa per un lungo lasso di tempo fino a prima del Covid con l'interruzione della pandemia. Questo per dire che la Francia è una sperimentazione di quella che Balibar chiama insurrezione permanente e poi usa il termine insurrezione democratica per quello che riguarda la Grave General come l'abbiamo conosciuta in questi mesi e per cui ha tutti i dati di interesse di coloro che si approcciano come dicevo prima all'attivismo politico, al tentativo del cambio radicale di sistema per leggerle alcuni contorni e se stiamo discutendo di questo che a nostro avviso sono anche molto diversi dalla situazione italiana che stiamo vivendo. C'è il manifesto dietro di me che parla di una cifra molto simbolica, 60, in Italia se pensiamo a quanto i diritti dei lavoratori siano stati smantellati, a quanto l'attacco al sistema pensionistico ormai sia qualcosa di lunga data e questi attacchi non hanno visto una risposta, almeno negli ultimi anni, di massa, una risposta che abbia previsto uno sciopero generale, in Francia parliamo di scioperi generali ripetuti, di scioperi generali veri che mettono in crisi le metropoli, penso a come abbiamo visto le lotte dei neturbini dentro la Grave Parisienne, di questa capacità degli scioperi di andare veramente a fare male, ecco in questo paese nemmeno un inneggio allo sciopero generale abbiamo sentito nell'ultimo periodo. Allora andiamo a guardare alla Francia perché dobbiamo cogliere anche degli strumenti che servono alla nostra cassetta degli attrezzi per riportarli non come un modellino, qualcosa di sperimentale che si prende da un territorio e si riporta in un altro senza le stesse caratteristiche ma per provare a immaginare forme di lotta di classe anche nel nostro paese. Uso questo termine è lotta di classe perché oggi è uscito un articolo molto bello su Global di Danilo del Bello che va proprio a inquadrare quelle che io stasera definisco le tre direttrici che abbiamo visto in Francia in questo anno dentro proprio il concetto di lotta di classe contro il capitalismo che estrae valore da qualunque cosa. Bene, la prima direttrice che introduciamo questa sera è proprio quella legata all'attacco del sistema pensionistico e quindi a quello che secondo me con uno slogan molto azzeccato in Francia è stato definito la difesa del tempo di vita. Questa cosa di impedire che anche nel tempo che spetta la nostra vita che è quello della pensione, quello che ti slega dalle catene del lavoro salariato ecco lì il capitale, lì vuole entrare, vuole sottrarci il tempo di vita e lo vuole mettere a valore. Quindi questa è la prima direttrice su cui ci interroghiamo stasera che è quella della lotta della Grave General e di come quello, uso due termini, convergenza e ricomposizione siano qualcosa di estremamente straordinario perché hanno parlato di segmentazioni sociali importantissime, l'intersindacale da una parte, i movimenti dall'altra, la capacità quindi di costruire una convergenza delle lotte che ha saputo darsi un obiettivo comune, ha saputo darsi un linguaggio comune e quella che Balibar chiama esurrezione democratica perché mette al suo interno talmente tanti soggetti che non possono che essere in tendenza alla prefigurazione di una città altra, la capacità dentro lo scontro epocale che si sta giocando in Francia di quello che una volta avremmo chiamato socialismo o barbarie. D'altro canto abbiamo partecipato e vissuto in prima persona gli accadimenti di Sulmont della Terra, la battaglia di Saint-Solene contro i bacini e lì un altro tema dell'estrattivismo capitalista, della messa a valore di uno dei beni più preziosi che sono oggetto di campagna da parte del capitale che è l'acqua, dell'acqua della sua privatizzazione, della sua capacità di essere messa dentro proprio dei bacini che vengono ovviamente presi in carico da qualcuno che ne detiene la capacità di costruirli, di gestirli e quindi anche di erogare quella stessa acqua che vi viene stoccata. Questo interpreta la capacità di un movimento climatico ecologista che ovviamente in Francia nasce anche dall'esperienza della ZAD, da grandi movimentazioni in difesa del proprio territorio, la grande vittoria contro l'aeroporto Cesar e quindi da un retroterra costruito di sedimentazione di anni di lotte ma dentro quel contesto troviamo attori sociali, sindacati, Sud Solider per esempio è un elemento importantissimo nella battaglia di sul mondo e la terra e quindi è parso alla terza forma di direttrice che è poi quella che porta anche l'attualità in questo dibattito che è stato costruito e pensato prima della morte di Naël, quindi prima della più grande esplosione delle pariferie francesi dopo quella del 2005, dopo la morte di due ragazzi che nel 2005 si rifugiano scappando dalla polizia in una cabina elettrica muoiono fulminati e lì c'è una delle più grandi rivolte delle baglie parigine. Per caso ero in Francia in quel periodo a scrivere la tesi di laurea proprio su questo per cui qualche similitudine se avremo la possibilità con noi all'ultimo momento di recuperare Giuditte Revelle la faremo perché c'è molta differenza tra quella rivolta del 2005 e quella di oggi, c'è una composizione sociale cambiata, forse quella di oggi assume le caratteristiche anche molto simili a una rivolta no future e questo ci parla però di una rivolta che non nasce così a freddo ma dentro quel ciclo degli ultimi dieci anni nel quale c'è una contrapposizione forte, immensa tra i movimenti sociali, tra i movimenti che difendono i diritti, tra i movimenti che vogliono un avanzamento dei diritti o coloro che vivono le situazioni disagiate. Io credo che possiamo tranquillamente parlare di disumanizzazione della baglie, di esperimenti di ghetto nei quali sono stati fatti grandi esperimentazioni repressive che poi lo vedremo, abbiamo trovato all'interno dei contesti di repressione che ormai sono all'ordine del giorno in Francia. Insomma queste tre direttrici che interpretano da una parte una spinta neocoloniale, non possiamo che definirla così dentro interi quartieri, interi milioni di persone che vivono in quartieri che non sono la Francia, che non hanno i diritti dei francesi, che vengono trattati quindi come non francesi, altro che il discorso di Chirac alla nazione del 2005 quando di fronte alle proteste alle sommosse e dice siamo tutti figli della Repubblica. Qua siamo di fronte a un cambiamento di fase, il macronismo da questo punto di vista interpreta una rottura radicale, una prova di forza generale con i movimenti sociali in Francia e per cui dobbiamo tenere conto che stiamo discutendo questa sera dentro questa forbice. Una movimentazione sociale radicale, l'espressione delle lotte climatiche, delle lotte per il reddito, delle lotte per i propri quartieri che non risultano avere nulla e dall'altra la risposta dello Stato è una risposta che parla di Stato d'urgenza, di poliziotti armati, di granate. Io avevo un'immagine, la butto lì e poi veramente apriamo il dibattito, che è l'immagine del 2005. Nel 2005 c'era un modo per stare da parte della polizia nelle banlie e un modo per stare con i francesi. Ai francesi non era riservato il trattamento delle granate stordenti, delle flashball, cioè quindi la polizia, la BAC, quella che veramente batteva e faceva male, stava solo nelle periferie. Invece negli ultimi anni quell'esperimento sociale repressivo è stato adattato come unica fonte di risposta a una movimentazione sociale enorme di fronte alla quale il Governo, ma addirittura la Corte Costituzionale non ha scelto la strada del dialogo, ma ha scelto la strada della contrapposizione violenta. Ecco, proprio per questo abbiamo con noi in collegamento Francesco Brancaccio, amico, compagno che segue dalla Francia le movimentazioni sociali, che le studia, che le agita anche nel suo percorso di lavoro universitario e quindi la prima domanda è proprio partiamo un attimo dall'importanza di questo movimento della Grave General, dalla sua capacità di convergenza da una parte, ricomposizione dall'altra e magari accenniamo anche perché in qualche maniera anche quello che è successo con le rivolte delle banlie non è comunque qualcosa che avviene a caso, ma sta dentro questa anche dicotomia, questa forbice che si chiude dalla repressione statale nei confronti di chi sceglie di non voler vivere questo stato di cose presenti e si pone il problema del cambiamento radicale.